ormeggi antonio sto ormeggiando ah state qua non vi trovavo più la barcolana ha una tradizione antichissima è la regata con il maggior numero di imbarcazioni di partecipanti al mondo ma c'è anche un'altra ragione per cui è così famosa guardiamoci intorno il golfo di trieste una meraviglia ma come tante altre meraviglie del mare anche qui forse c'è qualche problema